grazie a tutti gli amici e le amiche del circolo ad armando naturalmente e buonasera a tutte e a tutti siamo qui appunto per questo ennesimo appuntamento di Torino Spiritualità e abbiamo la fortuna di avere qui con noi Bjorn Larsson. Gli darei il benvenuto con un altro bel applauso. E io come come Carola sono particolarmente felice ed emozionato questa sera perché Bjorn Larsson è uno degli autori europei più originali più influenti e più letti nel panorama letterario contemporaneo e anche qui in Italia ormai da 25 anni ha un pubblico di lettori e lettrici molto fedele molto partecipe e piuttosto vasto come testimoniano i volumi che trovate fuori nel foyer e quest'ultima libro di cui parleremo stasera da cui partiremo stasera nel nome del figlio pubblicato nel 2021 come tutti gli altri appunto da Iperborea ci porta vicini al cuore di questa rassegna di Torino Spiritualità ci porta a tu per tu con un'assenza e con tutte le riflessioni che questa può innescare sulla morte e sulla memoria di chi non c'è più. La prima domanda quindi che vorrei rivolgere a Bjorn riguarda la prima scelta che il lettore o la lettrice si trova davanti quando apre il libro perché aprendi nel libro ci imbattiamo in una fotografia è una fotografia che non ha lì per lì di Dascalie c'è un uomo nel fiore degli anni e non appena cominciamo a leggere possiamo intuire possiamo inferire che quest'uomo sia il padre di Bjorn Larsson un uomo scomparso morto il 27 agosto del 1961 quando l'autore il figlio aveva sette anni e mezzo nelle primissime pagine del volume che come capite ha una natura ibrida e poi anche di questo parleremo Bjorn Larsson cerca di ricostruire i fatti l'accaduto attingendo direttamente dalla memoria dice proprio così i fatti direttamente dalla memoria per poi scoprire però che la memoria è molto lacunosa addirittura un foglio bianco quindi la prima cosa che ti chiedo Bjorn è perché la fotografia perché un documento fotografico innanzitutto forse ha da fare con il fatto che ho un paio di fotografie del papà in questa foto si vede un uomo ha morto da 29 anni felice veniva di essere promosso lui era elettricista veniva di essere promosso per un posto diciamo di capo elettricista nel centrale elettrico in un piccolo paese qui in Skatteberg si chiama in Svezia e dunque vedevo questa foto di un uomo felice che non ha avuto la fortuna di vivere la sua vita e contrariamente a me ho vissuto una bellissima vita non rimpiango niente e lui no e PC questo contrasto con la sua sparizione a 29 anni che mi sembrava essere importante perché la storia non è tanto divertente diciamo all'inizio soprattutto la sua morte c'era questo incidente una piccola barca che è uscito su un lago c'era una competizione di pesca sulla riva e lui è uscito con qualche amici c'erano sei adulti e due adolescenti a borno e la barca si è rovesciata e tutti sono morti e nessuno sa perché o come eccetera tranne che io ero presente sulla riva e mio papà mi ha chiesto sì io volevo andare con loro e in Svezia il weekend gli uomini beveva era un po' per sfogarsi diciamo del lavoro dunque sentiva la puzza di alcol e c'era in questo sguardo io penso che tutti i bimbi non sono mai stato ubriaco davanti alla mia figlia per questo quando uno ha bevuto c'è un specchio di vago negli occhi uno guarda negli occhi dei genitori se loro sono ubriaco qualcosa di di vago non è più il mio papà dunque ho detto di no non vado e io sono tornato a casa e la mattina dopo abbiamo saputo che tutti sono anni sono stati annigati però la cosa che mi rende triste soprattutto è questa cosa che lui non ha potuto vivere la sua vita e per questo forse che voleva mettere la foto però anche era un bel uomo potrebbe essere James Dean in un film di Hollywood all'epoca capisco la mamma che è caduto nella trappola è vero era era un bel uomo e ed è vero le prime pagine ci callano in un in un dramma no in un in un trauma in una catastrofe perché la zia Mildred la sorella del padre nella notte riceve la notizia e comincia a urlare e e tu è come se davvero andassi a ripescare tentassi di ripescare dal fondo della memoria i ricordi di quella notte del pomeriggio prima alla gara di pesca dei giorni successivi e sono davvero pochissimi i momenti no che che emergono e adesso ne hai fatto già un racconto molto lineare di quello che è successo però anche la dinamica di quello che è avvenuto resta misteriosa quasi inspiegabile perché la barca si è ribaltata tuo padre era un abile nuotatore molti hanno rimasti stupiti non fosse riuscito a mettersi in salvo o addirittura salvare qualcuno la vita no irrompe e si porta via otto persone improvvisamente e la prima cosa su cui volevo chiederti di soffermarti ancora è proprio questa cosa del della memoria come qualcosa di di molto imperfetto tu poi meditando su questi fatti arrivi a un libro intitolato il senso della memoria di due studiosi francesi e tornando indietro nel tempo ricostruisci sei ricordi di tuo padre sì ho veramente fatto attenzione a non fare una proiezione o immaginarmi cose che non sapevo sentivo di sicuro perché devo spiegare forse che ho provato di scrivere questo libro molte volte e non sono riuscito perché io pensavo che dovevo scrivere un romanzo dovevo immaginare cosa potrebbe essere successo in questa tragedia o diciamo come la barca si è rovesciata e tutto il resto ogni volta che arrivavo lì dove non sapevo niente mi sono fermato è come se non avevo il diritto io di immaginare cosa è successo perché loro sono state persone reali diciamo padre di famiglia e tutto il resto e quando ho deciso di scrivere le cose come sono state anche tramite la memoria dove sei ricordi è lì dove il libro si è fatto dunque è un libro non di immaginazione mi sono rifiutato completamente di immaginare ho fatto qualche domanda che potrebbe essere successo però non ho mai riempito i buchi diciamo di memoria con speculazioni questo non ho mai fatto però c'è una cosa che non mi piace neanche questo pensiero che la memoria è sempre un inganno non è vero dipende delle cose che uno si ricorda però c'è una piccola storia che è veramente tremenda non tremenda però che mi ha molto stupito perché il giorno dopo l'incidente per una ragione che non so perché io sono scappato da casa a sette anni e mezzo, otto anni e sul lago c'era un sacco di piccole barche a remi per cercare di ritrovare i corpi dunque tutto il paese perché è un piccolo paese di 3.000 abitanti e tutti erano lì no tutti però gli uomini andavano sul lago per ritrovare i corpi degli annigati e io sono andato lì sulla riva scappato da casa non so come ho fatto questo non mi ricordo però mi ricordo che sono andato lì e ho guardato e lì mi ha visto un amico del mio papà che mi ha detto ma che fai tu qui? mi ha detto non so cosa ho risposto perché non mi ricordo però lui mi ha portato a casa sua e dunque mi ha tranquillizzato non so se era però questa è la storia 40 anni dopo o forse di più ho avuto il contatto con una ragazza una donna che viveva all'epoca nello stesso paese e lei per caso vive nella mia città di adesso a Helsingborg è stata l'amica anche per caso di una zia mia e un giorno lei mi spedisce un mail raccontandomi che quel giorno lì i genitori dicevano a tutti tutti i bimbi tutti i giovani di non andare sulla riva perché questo era vietato c'era tutto non so come hanno fatto per spiegarlo però i giovani non avevano il diritto questo giorno dopo l'incidente di andare lì a guardare lei come io è scappata di casa e mi raccontava che lei andava lì e ha visto lei che ha dieci anni di più di me ha visto lì un giovane ragazzo che stava lì a camminare intorno alle barche e agli uomini e qualcuno ha detto a lei questo è il figlio di Bernd il mio papà completamente per caso però lei ha confermato che il mio ricordo su questo punto era giusto dunque non è detto che la mia memoria è sempre un'illusione però questa catena di casi coincidenze che fa che lei che l'ho conosciuto l'ho conosciuta lei è tremenda certo una delle domande che ritornano è perché alcune cose restano nella memoria e altre no un'altra è chi era quindi mio padre se non posso attingere a un numero di ricordi più ampio di così se non posso interrogarlo uno dei ricordi più forti che hai di lui è il momento in cui ti rompe un tuo salvadanaio senza averti chiesto il permesso è come se lui io non so perché forse lui era venerdì sera o sabato perché sabato si lavorava anche la mattina che forse noi abbiamo avuto pochi soldi a casa e forse lui voleva comprarsi una bottiglia di acquavite con gli amici per il weekend e ha rotto e ha preso i miei soldi senza dirmi niente e questo è rimasto come specie di era un traditore ho perso la fiducia nel mio papà e questo mi è rimasto e dunque quando lui non è soltanto per questo perché il simbolo forse del fatto che non ho pianto quando è morto e non giudico il giovane non possiamo diciamo fare un giudizio morale etico su un piccolo di sette anni e mezzo però questi sono i fatti non ho pianto ho vissuto con questa cosa lì tutta la mia vita che era il piccolo che non ha pianto la morte del suo papà e non penso che io sono l'unico però normalmente non si può dire questo è tabù non si può dire così non ho pianto la morte di un genitore e io l'ho scritto questo libro un po' per loro che non hanno mai avuto il coraggio di dirlo perché ci sono e io l'ho conosciuto tramite il libro anche tu lo racconti sentivi il dovere di piangere sì questo era aspettato io sentivo la mia mamma è entrata la notte quando si è saputo che la barca era rovesciata e mi ha detto a me e alla mia sorella potete piangere e io ho provato niente veramente mi sentivo così quasi in colpa però alla rovescia la rovescia di questa idea è che mi hanno chiesto molti se io ho perdonato il mio papà e la mia risposta dopo anni adesso per esempio quando ho scritto il libro la mia risposta è che non posso perdonarlo perché non lo conosco non conosco cosa ha fatto nella vita come pensavo la vita come trattava gli altri se il ricordo non è non basta per conoscere una persona dunque non posso perdonarlo però non posso neanche giudicarlo e lui ha sei ricordi un paio ritagli di giornali qualche storia nella famiglia perché da noi non so se questo sarebbe svedese io ho una famiglia allargata adesso Salentina e io posso assicurarvi che lì si parla dei morti si fa la messa si ricorda le storie sui morti è come se loro sono sempre presenti si festeggia anche il compleanno di uno che è partito dieci anni fa va bene fanno così da noi no da noi è silenzio è silenzio dunque non si raccontava mai storie sul mio papà i suoi genitori i miei nonni non mi ha mai raccontato niente su di lui ma come mai secondo te non si parlava dei morti non so esattamente forse loro avevano l'idea diciamo di volere di non volere girare il coltello nella piaga diciamo in un certo senso però dopo questa è una cosa che non ho messo nel libro che non mi sono chiesto dopo per loro erano i suoi genitori hanno perso un figlio e io non ho mai misurato la pena il dolore loro è come se questo non so sì tu molto tempo dopo sei venuto a sapere che addirittura un parente nel ramo materno della famiglia era già negato in un lago era il mio il mio nonno materno non se ne era mai parlato sì anche questo non lo sapevo la mia mamma aveva sei mesi dunque lei non si ricorda niente ovviamente però lui anche lui in un lago a Yoncheping dunque questo ho saputo molti anni dopo perché neanche di questo si parlava dunque il mio nonno era il marito della mia nonna che ho conosciuto però non sapevo che lui è stato il secondo marito della nonna e questa è una cosa terribile del dolore no? è un'esperienza universale che facciamo tutti soprattutto quella della perdita però poi nel momento in cui non ne parliamo pur essendo un'esperienza comune a tutti finisce per isolarci sì io non so non è una questione secondo me di bene o di male perché anche parlare troppo dei morti diventa anche un peso diventa un peso e dunque ci fosse il giusto equilibrio non so però non parlare del tutto è anche spaliato e adesso ho nipotini sono troppi giovani non parlerò di loro di questa roba lì però per esempio è sempre stato il caso fra i sopravvissuti gli ebrei sopravvissuti dai campi che hanno avuto resistenza a parlare con i loro figli figli con l'esperienza tremenda dolorosa e tutto il resto invece spesso alla fine della vita hanno raccontato ai nipotini perché da qualche parte bisognava raccontare questa storia lì però fa anche male raccontare io non voglio ho avuto questo problema con la mia figlia a che età iniziare a raccontare i campi di concentramento il morto del suo nonno anche perso non ha mai conosciuto l'altro nonno materno a che età perché io la vedo io la vedevo piena di vita voleva vivere sogni aveva tutto questo entusiasmo dei giovani e qui il genitore che arriva e dice sai che il mondo è brutto cattivo non è non è così facile forse la scrittura ci viene in aiuto no? la scrittura i libri sono un modo per parlare di ciò che non riusciamo a dire di persona potrebbe essere però la mia figlia non mi ha mai letto aspetta no ha letto adesso ha letto perché andava in Scozia dunque ha letto il cerco celtico alla fine però lei mi ha detto io mi ricordo ero a Roma penso per un incontro c'erano 300 persone era molto bello e tutto il resto e peraltro quando abbiamo passato davanti al Coloseo in macchina lei ha detto Asterix e Oblix dunque la letteratura però lei mi ha detto non voglio uno scrittore come papà io voglio un papà e io devo rispettare questa cosa lì assolutamente peraltro una cosa molto dolce che dici rispetto a tua figlia è che tu sei a tua volta stato un grande velista ma a un certo punto hai capito che dovevi essere più cauto ed evitare di morire per restare in vita almeno fino ai suoi vent'anni la prima la prima reazione è stata quando la compagna è stata incinta eravamo in Spagna abbiamo avuto l'idea di andare lasciare la barca in Irlanda tornare a casa però c'erano colpi di venti tempeste intorno a Irlanda e adesso eravamo tre noi due più quella piccola lì dentro e io non ho potuto diciamo avevo perso un po' di coraggio dunque abbiamo fatto appello a due persone che hanno riportato la barca in Svezia abbiamo preso l'aereo però dopo l'altra un po' ossessione mia era di sopravvivere all'età mia quando ho perso il papà io dovevo assolutamente sopravvivere più di sette otto anni per la mia figlia dopo è stata vent'anni e suppongo che continua così tutta la vita però aveva questo però questa cosa dell'età del mio o mia quando è morto il papà questo per me era diventava importante io dovevo assolutamente vivere vivere più per lei che lui ha vissuto per me e ci sono pagine molto di grande sincerità in cui tu racconti lo hai detto prima non eri riuscito a piangere ma addirittura un compagno nei giorni immediatamente successivi dici guarda provo addirittura un senso di sollievo la mamma quando lo viene a sapere è sgomenta no? però forse tu puoi giustamente metti anche tutto in prospettiva pochi ricordi ti legavano tuo padre e i padri all'epoca seguivano un modello diverso rispetto a quelli attuali sì penso di sì però anche questo è difficile di sapere bisogna dire che noi abbiamo vissuto sono cresciuto in un piccolo paese di foresta diciamo tutti lavoravano nella foresta però ho ritrovato in un libro non mi ricordo il titolo che è un bel libro su rifugiati che arrivavano in Sicilia non mi ricordo il titolo purtroppo perché è un libro da leggere e ho ritrovato questo giovane scrittore che diceva la stessa cosa sul suo papà questo non taciturno non parlare non dire niente sempre forte così io mi ricordo il mio nonno ha sempre avuto animali cavalli cani e amava gli animali più che altri forse anche più che la nonna un giorno ha perso un cane che è morto il nonno è sparito per due giorni da piangere in un angolo o da qualche parte quando è tornato e così era all'epoca dunque si spiega anche ovviamente questo spiega anche in parte ovviamente il rapporto fra la distanza sì fra i figli e i genitori poi man mano che il libro avanza tu cominci a chiederti altre domande ad esempio qual è l'impronta che su di me mio padre ha lasciato essendo se non dato così presto naturalmente c'è la biologia ma quanto spiega la biologia poi c'erano i suoi libri no? che insomma viaggia al centro della terra c'erano le sue passioni il nuoto la barca però non è così facile tirare una linea dritta no? no è questo che ho voluto dimostrare o mostrare che è troppo facile di parlare di legame di sangue o di genetica e stranamente quando per esempio io vado adesso con i nipotini quando dalla mia parte la sorella mia per esempio se uno di loro assomiglia a qualcuno al nipotino è sempre a lei o a me non è mai da parte del papà dunque ci sono questa mitologia intorno al legame di sangue l'influenza e io ho cercato anche leggendo altri libri ho cercato veramente di capire se uno può dire qualcosa di certo sull'influenza della genetica piuttosto che il sangue e ovviamente c'è però il problema è che non possiamo identificarla questa influenza in che cosa consiste allora un giorno la mamma mia che non parlava molto del papà o quasi niente mi ha fatto notare che la mia sorella e io tutti le due siamo un po' così e mi ha detto come il tuo papà dunque questo lo so tutto qui vuol dire il resto colore degli occhi forse però sulle cose essenziali valori personalità carattere non sappiamo nulla e non ho voluto fregare i miei lettori ho voluto veramente indagare se era possibile di dire qualcosa di più sul suo impronto su di me che sarebbe altro che come si dice in inglese wish thinking desiderio preso per realtà c'è anche qualcosa di liberatorio no? nella possibilità di scegliere chi diventare chi essere senza doverlo ereditare da qualcuno anche questo ovviamente è vero in un certo senso però che cosa sarebbe stato se non fosse per la morte del papà non ne so neanche dunque è come se la sabbia fra le dita sparisce quando uno mette veramente a scavare perché a volte per esempio l'influenza di carattere salta una generazione o due non si sa e alla fine non ho trovato niente di solido dove posso dirmi questo in me o la mia vita viene dal papà ci sono certamente cose che vengono dal papà o influenze però non riesco a individuarle Bjorn prima diceva che il libro parte con una nota minore con un accordo un po' lugubre però vorrei leggervi se sei d'accordo un paio di pagine che io ho trovato molto divertenti e frizzanti e pieni di vita proprio nel solco di questo interrogativo quanto ho seguito mio padre la sua influenza quanto ho scelto io che cosa fare a me viene in mente una parola appunto inglese tu sei un overachiver hai fatto tantissime cose nella vita e adesso ve ne do un assaggio questo non l'abbiamo detto ma per tutto il libro l'autore non dice io ma racconta una storia in terza persona il cui protagonista è il figlio si chiama così si chiama il figlio per tutto l'arco della storia anche quando è diventato appunto papà adulto e si è affacciato alla terza età qui siamo invece subito dopo le superiori il figlio iniziò a dedicare gran parte del tempo libero proprio alle immersioni in men che non si dica ottenne i brevetti necessari e a 17 anni era uno dei primi istruttori subacquei certificati di tutta la Svezia come se non bastasse scrisse anche un libro sulla matematica delle immersioni sportive che per molti anni è stato fotocopiato e utilizzato nei corsi di addestramento subacqueo di tutta la Svezia nel frattempo sempre al liceo iniziò a scrivere articoli e poesie che spesso venivano pubblicati seguirono diverse anni di studi universitari intervallati da qualche breve periodo in prigione per renitenza alla leva e da un lungo soggiorno a Parigi per diventare scrittore anche se all'inizio si trattò più che altro di fare la vita dello scrittore i soldi arrivavano da borse di studio prestiti universitari traduzioni da qualche incarico come istruttore subacqueo a Malmo e dai turni all'ospedale di Lund come guardia notturna io ho fatto tipo un decimo di tutto questo ma non è che siamo ancora a 25 anni cominciò a sognare di andare a vela si iscrisse a un corso e poco dopo comprò la sua prima barca lo SCUM un Nordisk folkbat con il numero 38 una delle prime 50 barche di quel modello costruite durante la guerra quando gli unici legnami nordici adatti all'impiego nautico reperibili erano la quercia e l'arice con lo SCUM che non aveva motore imparò ad andare a vela altra cosa che io non ho mai fatto non so quanti di voi c'è Simone Cartini sì due anni dopo lo vendette non aveva neanche il pozzetto autosvuotante e grazie a una piccola somma avuta in eredità dal nonno comprò il Moana un international folkbat dopo altri due anni il Moana salpò per la Francia destinazione Saint-Malo e l'anno successivo fece vela verso la Scozia ormai il figlio ci aveva preso gusto dopo quelle due traversate voleva andare più lontano soprattutto navigare più a lungo nel frattempo aveva iniziato a lavorare come insegnante part-time all'AMU la scuola di formazione professionale svedese avrebbe potuto tranquillamente accontentarsi della sua cattedra di francese ma come al solito fare il suo lavoro non gli bastava scrisse un manuale di lingua francese per il turismo e due dizionari e di lì a poco diventò il responsabile nazionale dell'AMU per la formazione del settore turistico dopo questo incarico e le navigazioni a vela arrivò il primo impiego fisso all'università di Lund come lettore di francese presto fece carriera diventò professore associato e poi ordinario nel 99 in fondo poteva bastare e invece nel 2000 decise di fondare nella stessa università la scuola di scrittura creativa che partì qualche anno dopo ed esiste tuttora beh, complimenti l'idea era questo diciamo di vedere se il mio papà aveva un po' questo 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 desiderio di fare di di approfondire di non semplicemente vivere al presente però non lo so esattamente però un amico che perché ho scritto questo libro che si chiama bisogno di libertà dove spiego diciamo questo mio bisogno di libertà addirittura che ho avuto tutta la vita e lui mi ha sempre rimproverato e ho rimproverato mi ha detto c'è qualcosa che manca in questo libro perché tu parli sempre della libertà e tu non fai che lavorare beh, sì si dice che è il modo migliore per essere liberi fare qualcosa sì però è stato così non mi sono diciamo contentato di fare insegnare voleva fare sempre qualcosa di più e anche adesso è così e questo è un peso io mi ricordo che lì peraltro la mia figlia sembra che lei ha preso di me un po' su questo punto perché lei mi ha detto un giorno papà sogno talmente di progetti di cose da fare che ho difficoltà a vivere pienamente il presente e lì mi sono riconosciuto e ho detto cambierà quando tu avrai figli e ho avuto ragione questo a proposito di presente e di progetti farei una piccola divagazione rispetto alla scrittura e al tuo processo di scrittura perché una cosa che racconti qua è che per tanti anni hai selezionato intere sezioni di libri paragrafi di pagine che poi ti imponevi di ricopiare prima di passare al libro successivo per assimilare anche questo è un esempio di questa malattia mia perché ogni volta che avevo letto un libro ho fatto al margine ho notato qualcosa e dunque o dopo ho ricopiato a mano i passaggi più belli più interessanti e al punto che ho ricopiato a mano qualcosa che corrisponde a 1500 pagine di romanzi stranamente mai di saggi di filosofia o di scienza sono romanzi io non sapevo che era così e la cosa assurda in un certo senso è che non le ho mai riletto tranne quella volta quando ho deciso di rientrare tutto sul computer e io pensavo un mese così scrivo abbastanza veloce sei mesi più tardi non avevo finito adesso c'è una specie di archivio di queste citazioni che non so cosa farne perché non interessa nessun altro per di più sono scritto in quattro lingue però una cosa ho capito ho notato quando avevo fatto questo lavoro di rientrare tutto sul computer che c'erano c'erano frase o c'è ci sono frase nei miei libri a miei che io trovo piuttosto belli o ben fatte la metà di questo veniva di altri scrittori io avevo dimenticato che aveva preso da loro senza saperlo senza saperlo sì penso adesso so però è un'altra cosa perché poi questo è vero è un libro che che vive anche di altri libri forse come tutti i tuoi precedenti inevitabilmente e ci arriviamo però rispetto ancora al processo di scrittura da qualche altra parte hai detto che tu scrivi ancora a mano poi ricopi al computer e man mano che ricopri cancelli il testo manoscritto con la gomma wow anche questa è una malattia però è un po' il yoga nel senso che scriva a mano perché io scrivo veramente velocemente la mia mamma insegnava la datelografia e quando ho fatto la comunione a 15 anni in Svezia ho voluto avere una macchina da scrivere e lei mi ha insegnato come scrivere con tutte le dita e infatto io scrivevo più veloce che due prime macchie io vedeva arrivare il testo dopo di me e questo significa se puoi scrivere di cose veramente brutte in poco tempo e si dice copiare incolare però il ritmo rimane questa cosa lì dunque scriva a mano però scriva a matita e dopo quando ho rientrato mettiamo 30 pagine sul computer prendo una gomma così con un caffè in un caffè di preferenza sto lì con la gomma a cancellare tutto dunque un quaderno Moleskine quello sottile basta per scrivere un romanzo di 400 pagine però non è perché sono tirchio è anche molto interessante perché queste sono le cose veramente sottile della scrittura quando una pagina è stata cancellata la gomma tre volte cambia il rumore della penna e la matita sulla carta perché la qualità della carta cambia così avete imparato qualcosa di essenziale stasera ma e lo cancelli perché non vuoi tornare a vedere se c'è una differenza tra una versione e l'altra io no però non vorrei neanche che c'è una soprattutto in Francia è molto forte questa tradizione all'università che si chiama la critique génétique e loro studiano le versioni anteriore e il tesoro principale loro è Flaubert perché lui ha salvato tutto e ci sono una ventina di versioni per ogni romanzo suo e dunque studiano diciamo come eccetera eccetera però è noiosissimo come critica letteraria dunque mi sono detto niente di questo per me a proposito della letteratura francese tu l'hai insegnata per anni e ci sono appunto due libri o meglio due autori che ritornano più volte in queste pagine forse per forza di cose uno è Georges Perec con i suoi esperimenti attorno appunto al ricordo e l'altra invece è Simone de Beauvoir su cui tu avevi scritto la tua tesi e che è stata un po' una stella polare diciamo che Perec l'ho scoperto un po' più tardi però ovviamente Perec che lui dice in una frase non ho ricordo di infanzia e quando ha scritto questo romanzo straordinario che si chiama La Sparizione è scritto senza la lettera E che è la lettera più comune in francese un romanzo di 400 pagine e non si capisce come ha fatto non si può dire je per esempio non si può dire le perché c'è però anche la congiunzione anche la congiunzione viene meno puoi dire je per non je e ovviamente la sparizione in questo romanzo che cosa è i suoi genitori i genitori ebrei e tutti gli altri che sono spariti nei campi nella camera di Gaza per dunque è una specie si chiama Misanabim dunque questo conveniva molto conveniva io doveva leggerlo per scrivere questo libro però Simon Buar è un altro discorso completamente perché è soprattutto il secondo volume delle sue memorie si chiama La force de l'age la forza dell'età dove lei racconta questa bellezza della sua vita voleva leggere tutti i libri visitare tutti i paesi discutere di tutto con s'altro amare tutti c'è una specie di desiderio di vita in questo libro che mi ha colpito che mi è stata addirittura una specie di stella o qualcosa di irraggiuntibile e in parte è per questo che sono andato a Parigi perché sembrava così una vita così bella ovviamente quando io sono arrivato gli esistenzialisti erano già a casa perché non si poteva più muoversi quando uno diventa famoso non si può più stare nei caffè per scrivere eccetera eccetera dunque però almeno avevo un piccolo monolocale monolocale questa chambre de bonne come si chiama al sesto piano e sotto vedeva lo studio di Romain Garry almeno questo non male l'esistenzialismo prima che loro o Sartre soprattutto voleva confrontarsi con il marxismo è una filosofia della libertà è una dei pochi filosofie che ha da fare veramente direttamente con la libertà però per Simone de Beauvoir per Sartre era qualcosa di pensato però Simone de Beauvoir era qualcosa di vissuto anche come donna se voi conoscete il secondo sesso e questo che mi impressionava io volevo anche questa cosa lì di vivere tutte le vite di leggere tutti i libri scrivere tutti i libri incontrare tanta gente eccetera eccetera dunque è questo e ho scritto la mia tesi il dottorato su un altro libro perché all'epoca non si poteva scrivere un tese di dottorato su un'autobiografia non era considerato un genero letterario pienamente un altro testo che tu richiami qui ma è tuo è la lettera di Gertrude perché è tematicamente affine la questione della libertà cosa faccio della mia vita nel momento in cui scopro che non sono chi pensavo di essere Martin il protagonista alla scomparsa della madre scopre che la madre non era chi aveva sempre sostenuto di essere ma era una sopravvissuta ad Auschwitz e quindi era una donna di origini ebraiche questo faceva di lui potenzialmente se lo avesse scelto un ebreo sì ho voluto scrivere questo romanzo in parte per ragione diciamo personale però in parte anche per mettere il lettore i miei davanti a un dilemma veramente forte perché la mamma non aveva detto niente a nessuno e ha lasciato questa lettera a lui che per di più è genetista dunque lui sa le difficoltà diciamo a individuare l'influenza genetica sulle persone dove lei svela che era ebrea allora lei perché la diciamo la trasmissione dell'ebreismo va dalla mamma dalla nina materna dunque lui ha perfettamente il diritto di dire io sono ebreo nessuno direi il contrario gli ebrei sarebbero contenti di avere un altro ebreo no? gli antisemiti anche per odiare ancora uno va bene anche questo e la maggioranza sarebbe indivisciata indifferente però nessuno mette in dubbio il suo diritto di essere pienamente ebreo soltanto che non lo è perché non è stato educato così non c'è stata la circoncisione non c'è stata niente di questo la religione non si occupa non se ne frega però la scelta c'è dunque se lui non dice niente a nessuno non sarà ebreo il problema è che se lui non dice nessuno niente a nessuno farà la stessa cosa una specie di lui avrà un segreto per la sua moglie per la sua figlia per gli amici fra cui c'è un ebreo e come ha fatto la mamma con lui e che ha creato questo questo velo questa distanza fra la mamma e lui perché lei aveva questo segreto tremendo che lei non ha mai raccontato e ci sono lettori che mi hanno detto ma perché lui non perché lui aspetta nel romanzo lui vuole sapere che cosa rappresenta essere ebreo prima di fare la scelta e ci sono per me che ma perché è un dilemma perché è così difficile dire la mamma è ebrea peraltro Romain Garia ha detto la stessa cosa la mamma mia era ebrea io no e per se uno pensa questa situazione mettiamo la stessa situazione di Martin in Germania in 36 o 37 lì la scelta era una scelta di vita o di morte noi abbiamo tendenza a volte per mancanza suppongo anche di immaginazione di pensare che queste scelte lì non non toccano a me eh sì anche a noi ci sono questo scelta a volte Romain Garia peraltro è un bel esempio di qualcuno che aveva scelto tante identità diverse nell'arco degli anni Biorno ti faccio ancora un paio di domande una riguarda un personaggio che resta sullo sfondo in questo romanzo e però torna anche in virtù di un paio di coincidenze ed è Ville l'amico di tuo padre è un personaggio bellissimo di cui vorrei leggere ancora e ancora di più no il mio papà ha avuto questo amico che era più grande di lui di dieci anni pensa e il mio papà e lui e un altro avevano fatto non so perché loro si interessavano un po' alla geologia che cosa è naturale in questo paese dove ci sono un sacco di miniere e loro cercavano eh l'uranium all'epoca dove quando non si sapeva ancora bene diciamo le conseguenze dell'energia nucleare e hanno fatto ordinare dall'America un apparecchio che si chiama Geiger-Müller e hanno anche trovato l'uranium però loro non sapeva che questo diventava automaticamente proprietà dello Stato però c'era qualcosa lì e un'amicizia che non capisco o che non ho mai visto mi ricordo vagamente che una volta sono andato con loro in foresta però tutto è qui però dopo la morte del papà sono spesso andato da lui da Villa e la sua moglie che faceva per me l'impressione un po' di quasi di zingari si vestiva in una maniera però erano lavoratori niente di intellettuale eccetera però lui ha sempre preso cura di me penso senza dirlo però anche lì non l'ho conosciuto veramente abbiamo avuto un contatto per molti anni ho cercato di raccontare a lui quando sono andato a Parigi quando ho pubblicato il mio primo libro in svedese lui è stato orgoglioso mi ha scritto qualche belle frase eccetera eccetera però si è fermato lì però a proposito di casi a proposito di influenza impronto io avevo dunque perché quando io ho fatto un anno in America a 15 anni e quando sono tornato a 16 anni ho fatto subito la maturità di inglese perché io potevo fare un esame parlavo scriveva inglese correntemente e invece ho iniziato a studiare anche questo non ho detto nel libro ho iniziato a studiare inglese all'università già al liceo e c'era un corso di state e penso che questo era l'ultimo di stato nel liceo che sono andato all'università di Lund tutti ovviamente erano persone più grandi di me e venivano studiavano per corrispondenza che era l'internet all'epoca diplomati tutto questo che erano fuori e io ero lì con loro che avevano 10, 15, 20 anni di più di me e poi c'è un signore che mi piaceva molto e viceversa siamo andati a prendere un caffè e abbiamo parlato di questo e dell'altro e poi un giorno lui arriva e lo vedo un po' quasi turbato e lui mi dice tu sei Bjorn Larson il figlio di Bernd Larson e io dico sì il suo papà era Ville incredibile incredibile questa simpatia che si è creata così per caso intero forse non era così per caso questa è una bella storia però mi rifiuto ancora di perché non si sa più di questo forse è un caso o forse è perché i nostri papà erano già amici per una ragione che non possiamo capire noi e ci siamo ritrovati 30 anni dopo tu dici che c'è un'espressione danese molto bella che è il libro dell'oblio tutte le cose che non sappiamo che abbiamo dimenticato come come ti sei trovato a scrivere invece un libro come questo che è un memoir un'autobiografia un saggio e tante cose insieme ma non è un romanzo no era questo è diventato questo libro lì perché mi rifiutavo di immaginare cosa avrebbe potuto succedere però forse anche questo è diciamo un po' in periferia della motivazione però la mia figlia quando è arrivato il primo nipotino mi ha dato un libro per nonni dove io dovevo raccontare un sacco di cose sulla mia vita e mi sono detto faccio il libro è più semplice beh chiudiamo così grazie mille Bjorn Larsson che è disponibile a firmare le copie nel foyer qui fuori grazie a tutte e tutti un applauso ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti